musica quanto vuoi? E ci siamo, ci siamo, con Mello di Leonardo, sabato sera, con loro, il 1997! Don Toretto! Don Toretto! 97! Abbiamo anche due imbucati! 97! Sì! 97! Perfetto! Raga, mi fai tenere la portavoce? Mi presenti tutti gli amici? Allora, noi siamo i coscritti del 97 di Meano, Gazzadina, Cortesano, Vigo Meano, ovvero i paesi vicino a Trento! Ok! I nomi, devo dire! Mazza! Allora, Ilaria, Andrea, Andrea, Davide, Alessandro, Federico, Alessia, Silvia, Lucia, Davide, Manuel, Sabrina, Alice, Roberto, Giacomo! Ci siamo presentati tutti! Ok! Adesso però voglio sentire di cantare! Ok! Mi abbracciate, mi abbracciate! 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 che il bambino vive già, l'ultimo desiderio che la bambino vive già, che è la ragione più profonda di ogni mio testo, la storia più incredibile che io lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Saluto anche alla piccola, come si chiamano? Sì, non è che tu sei in casa, tu sei qui, mi amai per ogni cosa, io senti, sembra non trasmettermi, l'amore non scegliermi. E così, fino a che sei arrivato, e sei qui, non sai quanto mi sei, ma andrò, speriamo, tu esistessi, però noi immaginiamo tanto. L'ultimo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi spulla. Sei la ragione più profonda di ogni mio gesto, la storia più incredibile che conosco. Conosco, conosco, conosco. E sì, bravi, bravi, bravi. Siete stati fantastici. Adesso finiamo con un grande urlo. Vai, vai, che fai? Aspetta un attimo. Ok. Ecco, ci siamo, partiamo dal basso così, perché voi siete il 1997 Pinè. Nostro non c'è potibile! Non c'è potibile! E me a! No!